ok buonasera buonasera a tutti benvenuti a questa nuova serata di architettura di questo anno questa sera presentiamo l'architetto elena bertinotti che ci farà vedere suo lavoro questa è l'ultima serata di quest'anno l'ultima serata di architettura di quest'anno del 2021 e anche l'ultima serata di questa di questo ciclo perché come sapete sono state fatte le nuove elezioni quindi c'è un nuovo consiglio dell'ordine architetti di monza e della brianza e quindi si porterà una nuova commissione cultura brevemente faccio una breve introduzione poi lascerò parlare l'architetto bertinotti in base a questo volevo ringraziare innanzitutto visto che si chiude questo ciclo il nostro presidente architetto enrico l'avezzari e soprattutto l'architetto andrea meregalli presidente della commissione cultura che ha tirato un po le figlie di tutto questo lavoro e ringrazio anche i miei colleghi della commissione per il grande lavoro che hanno svolto e per tutto il lavoro che è stato fatto assieme come dicevo sono contenti di ospitare di invitare l'architetto bertinotti grazie di aver accettato per il lavoro interessante che lo vedrete brevemente che svolge che sta svolgendo elena bertinotti a uno studio a mergozio in provincia di verbania e si occupa un'attività eterogenea come poi vi presenterà che spazia da architettura dalla progettazione architettonica progettazione del paesaggio in attenzione al territorio alla cura del territorio e anche altre attività di associazioni culturali e anche poi questa iniziativa direbbe l'architette che poi immagino ci presenterà brevemente voglio giusto spiegare il perché il motivo di aver invitato elena questa serata di architettura e prendo la frase che a lei ha citato per la sua presentazione tratta da carlo rovelli in cui si parla di spazi di relazioni in cui la frase dice le cose non hanno proprietà di per se stesse le loro proprietà esistono in virtù della loro relazione con le altre cose dal punto di vista personale trovo molto interessante e molto importante questo questa tematica della relazione secondo me è un po la natura alla fine dell'architettura e di noi architetti nel picco il nostro picco anche un po la nostra idea il firouge che ha unito tutte le persone tutti gli architetti che abbiamo invitato in queste serate l'idea era proprio quella di di creare questa relazione di queste relazioni con il territorio e anche per quello che abbiamo cercato di prediligere professionisti molto legati al territorio molto legati al loro al loro intorno perché lo sentiamo anche più vicino anche agli iscritti come lavoro e anche per la loro chiaramente per la loro qualità questo tema della relazione poi vedendo i lavori lo vedrete anche voi di elena bertinotti sembra molto chiara molto immediato il rapporto con i suoi lavori proprio per relazione che i suoi progetti interessano con da una parte il paesaggio col territorio circostante e anche questo suo lavoro con proprio di promuovere la cultura l'architettura nel suo intorno quindi mi sembra molto molto calzante col suo lavoro basta io direi che chiudo questa introduzione qui lascio parlare lena bertinotti poi alla fine apriremo un po il confronto con le domande quindi se volete fare delle domande le potete scrivere in chat io le leggerò e le discutiamo poi con l'architetto bertinotti grazie e buona serata grazie 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 massimiliano sei stato molto cortese ad invitarmi mi fa moltissimo piacere partecipare a questo a questo incontro e grazie anche al vostro ordine che devo dire che dal punto di vista della formazione mi sembra di capire che è molto avanti a differenza di altri ordini e non e non cito e non cito quali grazie davvero vedo di oscurarmi ecco scusatemi partiamo proprio da questo titolo spazi di relazione tu massimiliano già davvero introdotto il fatto che le relazioni e le interazioni saranno proprio la chiave di lettura degli interventi che vi andrò a presentare ma soprattutto perché sono elementi fondamentali nel progetto di proprio nel progetto di architettura in particolare nel mio modo di progettare come dicevi tu diciamo le relazioni sono quelle che noi nel progetto vediamo le relazioni con il contesto storico con un contesto paesaggistico le relazioni tra i materiali contemporanei e non le relazioni di luce e ombra all'interno di un progetto ma anche la relazione tra l'uso e e lo spazio quest'estate ho letto questo libro molto bello è il golanda del fisico carlo rovelli e mi ha mi ha colpito perché ci sono tantissime analogie nel senso che il libro è tratta dell'interpretazione relazionale della fisica quantistica no e la frase che tu hai letto e la rileggo molto volentieri perché vorrei rileggerla milioni di volte per capirla proprio nel profondo le cose non hanno proprietà di per se stesse le loro proprietà esistono in virtù della loro relazione con le altre cose e questo lo troviamo l'interpretazione relazionale lì troviamo non solo nella fisica quantistica ma in tutte le scienze nella chimica nella biologia nella psicologia dove il contesto relazionale è fondamentale per è fondamentale per conoscere un individuo e quindi anche nell'architettura noi capiamo le cose e progettiamo le cose nel loro essere in relazione con altre cose mi veniva un esempio molto banale no quando noi progettiamo una panchina non pensiamo di fare un oggetto di design noi pensiamo che dobbiamo progettare una seduta è una seduta per qualcuno per diverse modalità di seduta per diciamo una relazione con con un contesto vi faccio un esempio è un progetto del 2006 un progetto di riqualificazione del lungo lago di lesa in cui su una su una piazza su una piazza su questa su questa piazza di forma molto rettangolare squadrata ho introdotto questo questo questa panca pedana che è chiamato così che è semplicemente disegnata da un andamento non è un andamento obliquo di questa di questa linea che poi si interfaccia anche con le altre le altre linee oblique delle texture delle altre pavimentazioni sono materiali diversi c'è una beola spacco c'è una pietra di luserna c'è un serpentino e qui il tema era su questa piazza le persone come si siedono quindi sicuramente si siedono per guardare il lago e quindi c'è un fronte diciamo aperto ma mi sono immaginata anche tante sedute collettive diciamo di famiglie che si siedono in maniera un po più informale a guardare sulla piazza i loro bambini giocare oppure la classica piazza di paese in cui gli anziani si trovano a commentare le vicende del comune quindi delle sedute una seduta un po collettiva sottolineata anche dalla dall'uso dei materiali in questo caso con degli inserti di acciaio con delle delle linee led che allora erano diciamo abbastanza come dire in anteprima erano dei led della s quindi sicuramente di ottima qualità e con questo azzurro andavano a tracciare una continuità sostanzialmente con il lago sia nei colori dell'alba sia nei colori del tramonto e per questo diciamo per mi faccio aiutare da questo testo di peter zunto per stare l'architettura la qualità dell'intervento dipende dalla capacità di dotare il nuovo di proprietà in grado di instaurare un significativo rapporto di tensione con il preesistente giacché per trovare un suo posto il nuovo dovrà anzitutto stimolarci a guardare l'esistente in maniera inedita ecco con questo piccolo questa panca pedana con questo piccolo palco mi sono immaginata di poter offrire la possibilità di guardare l'esistente in modo nuovo a una scala diversa quella di cui parlava anche massimiliano parlando sempre di relazioni e di intera di interazioni fondamentali nella nostra nella nostra professione il gruppo rebe l'architette ha presentato alla biennale di venezia nel padiglione italia questo progetto che è disintossicare l'architettura dalle ineguaglianze un'azione collettiva ha selezionato 137 137 profiste italiane e tra queste ci sono ci sono anch'io per chi non conoscesse l'associazione rebe l'architette da anni promuove la progettazione al femminile a livello internazionale e ha come principale obiettivo quello di disintossicare il mondo dell'architettura dalle ineguaglianze quindi proprio partendo dalla questione di genere ma soprattutto di andare a cercare ea guardare diciamo con una certa attenzione a nuove letture nuove sensibilità o approcci diversi nella professione diversi dalla diciamo dallo standard se vogliamo anche molto patinato delle grandi architetture sulle riviste senza nulla togliere naturalmente anzi noi impariamo dai grandissimi architetti però spesso ciascuno di noi fa dei lavori diciamo con una sua sensibilità e queste sensibilità magari non finiscono sulle riviste ma sono importanti soprattutto nell'attenzione come diceva anche massimiliano magari un'attenzione al territorio un'attenzione allo spazio pubblico un'attenzione al modo di vivere gli ambienti sia in esterno che in interno e devo dire che su questo progetto francesca perani che una delle fondatrici avrebbe sicuramente molte cose da dire mi spiace che il vostro ciclo di conferenze si sia concluso perché ci stava benissimo dentro a questo ciclo anche una sua partecipazione e volevo solo dirvi no volevo solo sistemare la webcam ecco quindi io sono stata contentissima partecipato e perché è stata una partecipazione non individuale ma è stata una partecipazione collettiva corale di comunità l'abbiamo chiamata anche volendo di archi sorellanza per cui sempre quando c'è una condivisione c'è c'è un'amplificazione anche dell'evento scusate mi hanno mandato un messaggio sto facendo un pasticcio con questa webcam facciamo questa piccolissima pausa niente vi presento un primo progetto che in realtà è l'ultimo progetto che ho realizzato ed è il recupero delle sale dell'ala nord questa la qua al piano terra di villa nigra villa nigra è una villa storica che ha origine nel cinquecento poi è stata piatta in anni successivi e in ultimo negli anni 30 dall'architetto carlo nigra e si trova a miasino sulle colline del del lago d'orta avrei voluto presentarvi questo progetto con un video perché la cosa molto interessante è quella che il comune l'assessorato alla cultura ha incaricato una società di fare un video per seguire tutti i lavori per cui abbiamo due due produzioni una produzione di un video di 20 minuti e una short video di due minuti che è quello che avrei voluto presentarvi in cui si capisce molto bene tutte le interazioni tra l'associazione culturale che ha promosso uno studio di fattibilità a partire da dieci anni fa che poi è servito non solo per sensibilizzare gli enti e le amministrazioni sulla importanza del recupero di questo bene storico ma è servito anche per la ricerca dei finanziamenti che poi hanno portato a ad avere dei dei finanziamenti e quindi ad avere dei lotti di realizzazione e vabbè ci saranno magari altre occasioni per vedere questo video però è importante in questi progetti pubblici è molto importante la comunicazione e far capire che c'è un processo dietro non è il lavoro di per sé ma è proprio questo processo di costruzione di interazione tra soggetti diversi quindi tra enti diversi per arrivare a ad avere una una realizzazione questo è l'ultimo questo è l'ultimo lotto e il lotto precedente è stato fatto nel 2010 ed è stato il completamento eh dell'arancera di villanigra l'arancera si innesta come un corpo indipendente dalla eh dalla villa perché è un corpo più eh diciamo contemporaneo della fine del dell'ottocento primi del novecento e ehm questo intervento tra l'altro è stato eh è entrato nella segnalazione nella short list degli otto segnalati del premio internazionale domus restauro e eh e conservazione ehm il lotto sul quale siamo intervenuti era eh come potete ben immaginare eh ricco di eh problematiche perché un lavoro pubblico comunque abbiamo sempre un budget molto limitato eh una difficoltà a fare eh a introdurre delle varianti a fronte di imprevisti che peraltro qua eh ci sono stati imprevisti sulle fondazioni sul consolidamento dei muri su una linea della fognatura che eh in realtà eh era imprevenibile per cui eh c'è stata diciamo una grossa eh fatica come eh sempre avviene nei lavori pubblici e poi chiaramente una grossa soddisfazione quando al lavoro finito vedi che sei riuscito a mantenere dall'inizio alla fine eh tutti eh tutti gli obiettivi ma anche qui eh vorrei leggervi una eh piccola introduzione sempre estratta da eh pensare architettura di Peter Zuntor credo che gli edifici gradualmente accettati dal loro ambiente debbano possedere la facoltà di attirare e coinvolgere in modi in più modi la sensibilità e la ragione. Il nostro sentire e il nostro ragionare tuttavia sono radicati nel passato per cui il significato che costruiamo con un edificio deve rispettare il processo del ricordo. Ma pertanto ciò che ricordiamo non è paragonabile all'estremità di una retta. Vi sono diverse possibilità che portano al ricordo confluendo in esso. Immagini, atmosfere, forme, parole, segni e confronti aprono la possibilità di avvicinamento in modo da poter considerare l'opera contemporaneamente sotto aspetti diversi storicamente, esteticamente, funzionalmente, quotidianamente, personalmente, appassionatamente. Ecco, la relazione con un edificio storico è una relazione molto complessa che va al di là dell'intervento conservativo per quanto mi riguarda e che deve riallacciarsi al ricordo, ma non, come dice Zuntor, attraverso una linea retta, ma attraverso dei processi che mescolano insieme ragione e sentimento. E questo lo trovo davvero, come dire, una chiave di lettura che tra l'altro è quella che ha accompagnato questo progetto. In questo progetto l'obiettivo principale, diciamo dall'inizio sino alla fase di cantiere, l'obiettivo è sempre stato quello di valorizzare gli spazi, mantenendone il carattere, l'autenticità e soprattutto l'atmosfera, cioè l'atmosfera che è quello che li rende unici, per cui ogni spazio ha una sua unicità e ha una sua atmosfera, anche se sono due spazi contigui, anche se, come dire, però ogni spazio andava interpretato. È in questo quello che dicevo prima anche la relazione tra i materiali, l'accostamento tra un materiale molto contemporaneo, come la resina, un materiale neutro, con invece materiali storici. Qui stiamo lavorando su una delle parti più antiche della villa, la parte cinquecentesca della villa, per cui un'attenzione fondamentale deve esserci dall'inizio, ma anche nella fase di cantiere, per ogni singolo aspetto. Abbiamo scelto innanzitutto di riportare queste originalità, nella loro spazialità originale, vi faccio vedere degli esempi di quello che sto dicendo. Questa era la situazione prima dell'inizio dei lavori, e c'erano alcuni elementi inseriti da Carlo Nigra, tipo questo forno con dei canali, delle pareti, per cui abbiamo, dico sempre abbiamo, perché lo ritengo un lavoro collettivo, ma in realtà dovrei dire ho, ma avendo condiviso comunque tutti questi processi anche con l'amministrazione comunale, con il sindaco, con l'assessore alla cultura, dico abbiamo. E poi perché davvero ritengo che questa dimensione collettiva non debba mai spegnersi, quindi continuo a dire abbiamo. Quindi abbiamo riportato le sale da loro spazialità originaria, togliendo appunto queste superfettazioni, e abbiamo dovuto affrontare un grosso problema, quello dell'umidità di risalita, che in alcuni punti arrivava sino a un metro e sessanta, sino a un metro e ottanta, come potete vedere, tutta questa umidità di risalita. E per questo allora sin dall'inizio io ho fatto un lavoro molto molto selettivo per arrivare a inquadrare gli interventi del nuovo, cioè che principalmente sono interventi di risanamento e al massimo di passaggio impianti, lasciando intatto tutto quello che c'era di originale. E vi mostro le mie tavole di cantiere, per cui per parare il colpo rispetto a quello che succede solitamente in cantiere, cioè che i muratori e gli elettricisti arrivano e iniziano a sbragare i muri, a fare tracce dei passaggi dove a loro serve, ho messo in chiaro fin dall'inizio quali erano le parti che dovevano essere risanate, in particolare tutta la zoccolatura, diciamo, alta sino a un metro e mezzo, e le parti invece che dovevano restare completamente intatte. Nonostante questi disegni chiarissimi, qualche incomprensione, purtroppo qualche svista da parte dell'impresa c'è stata, però nonostante una direzione di cantiere fatta un giorno sì e un giorno no, qualcosa ogni tanto purtroppo spugge. Quindi questa era la situazione di una sala, abbiamo tolto la boiserie, abbiamo creato innanzitutto dei collegamenti, non ve l'ho detto, ma abbiamo aperto queste nicchie per dare continuità tra le sale sulla corte e le sale invece nella parte nord. Abbiamo fatto un grosso lavoro di scavo dove qui, come dicevo, c'è stata necessità di fare alcune parti di fondazioni e altre dei risanamenti con delle malte, con delle reti particolari. Ci siamo occupati del risanamento dell'umidità con la posa degli gru, il getto, il successivo sottofondo di passaggio impianti e abbiamo fatto un taglio molto netto su appunto gli intonaci che dovevano restare e invece gli intonaci che dovevano essere risanati con il classico ciclo di rinzaffo, rinzaffo intonaco e finitura, il ciclo deumidificante che abbiamo fatto con un prodotto della MAPEI. Poi abbiamo posato il riscaldamento a pavimento per completare il ciclo proprio del risanamento dall'umidità e finalmente una bella sorpresa di cantiere dopo tutti gli imprevisti di appunto voltini da consolidare, fondazioni da fare, abbiamo, descialbando i muri che avevano una tinteggiatura verdina degli anni 70, abbiamo trovato una colorazione delle pareti, un rosso meraviglioso fatto sicuramente negli anni 30 da Carlo Nigra perché è un rosso che si coordina molto bene al soffitto a cassettoni decorato sempre dal Nigra e abbiamo deciso di mantenerlo. L'unico intervento che abbiamo fatto, vedete qui il passaggio da questa situazione a questa situazione, è stato quello di abbassare di tono, quindi fare delle leggere velature sulle parti di bianco che creavano troppo contrasto. Tra l'altro queste velature le abbiamo fatte con il restauratore proprio semplicemente con una spugnetta, cioè portando il colore saturato verso le parti bianche e sempre sorpresa nella sorpresa abbiamo in un tassello di stratigrafia che abbiamo allargato abbiamo trovato un affresco probabilmente del 600 che sarà oggetto di interventi futuri. Questo era lo strato prima della posa del pavimento in resina, pavimento in resina perché anche qua un elemento neutro che mi lascia vedere la decorazione del soffitto ma anche lascia diciamo piena visibilità agli elementi preesistenti. Nell'altra sala abbiamo fatto diciamo sempre lo stesso, tutte le altre sale abbiamo fatto lo stesso intervento, lo scavo, la posa degli gru, la posa del riscaldamento a pavimento e qui c'è una parte che si può vedere in cui c'è un contrasto molto forte tra la parte di intonaco che poi abbiamo finito con una, abbiamo lasciato a vista, è un intonaco della calchera lasciato con una granulometria un po' spessa sostanzialmente e abbiamo lasciato a vista tutte queste stratificazioni delle colorazioni degli intonaci e delle pareti. ecco, qui si vede molto bene il discorso che facevo dell'andare a riquadrare in maniera precisa ciò che è nuovo da ciò che invece rimane intatto, queste sono delle colorazioni meravigliose. Abbiamo lasciato delle cementine, erano le antiche cementine a pavimento, abbiamo recuperato solo quelle poche che si sono riuscite a recuperare perché già erano completamente rovinate, sbrecciate, però abbiamo voluto in accordo con la soprintendenza e anche in questo caso comunque sul suggerimento della soprintendenza lasciarle come degli innesti, dei tappeti di ingresso. E poi le parti nuove con questa, con questi dispositivi, questa è una parete che era necessaria introdurne, anzi che andava a sostituire la parete alta del nigra, una parete boaserini che si riallaccia un po' al, alla preziosità degli interventi di artigianato che aveva portato avanti il nigra all'interno della villa, quindi una relazione anche con la figura di Carlo Nigra. Questa boaserini si accompagnerà sull'altro lato dal completamento con il bancone del bar. Questi sono i render di progetto presentati alla soprintendenza in cui era già chiaro l'obiettivo quello di lasciare a vista tutto il soffitto, lasciare entrare la luminosità attraverso una parete, facendo una parete bassa e non andando a chiudere questa parete. Inizialmente l'idea questa era di avere un legno molto bruciato, molto scuro, poi quando siamo andati a ripulire questo spazio, a illuminarlo, a fare l'intona, ci abbiamo capito che avremmo dovuto abbassare di tono. Queste sono alcune viste della sala, vedete anche l'impianto di illuminazione, è molto discreto, assolutamente non ha toccato le pareti, non ci sono interruttori, perché li abbiamo inseriti in quadri di comando dentro alle due sale, ai due ingressi principali. Queste porte sono state restaurate, c'erano e questa è la grossa apertura che è stata fatta per collegare la sala del bar con la sala sulla corte. Sono state inserite delle putrelle per fare il consolidamento del voltino e il tutto è stato riquadrato in maniera molto precisa con l'intonaco. Ecco qui c'è un piccolo aneddoto che mi piace raccontare, perché quando noi abbiamo descialbato le pareti, abbiamo scoperto questi colori, io mi sono innamorata di questi colori, cioè ogni parete era un quadro, questo è un quadro, questo è un quadro. E abbiamo avuto una piccola, diciamo, non saprei come definire, incomprensione con la soprintendenza. La soprintendenza ci ha chiesto di, in particolare su questa sala, di andare a scegliere una finitura di un colore, che potevano essere uno di questi, ocra, azzurro, grigio, uno di questi colori, per portare queste sale a una definizione compiuta di una determinata epoca. Io mi sono battuta, ma non solo io, anche l'amministrazione comunale, fino all'ultimo, per far capire che a noi interessava qui lasciare la sovrapposizione degli strati, cioè mettere in scena qui un racconto di storie che si sono sovrapposte nel tempo, dal Cinquecento ad oggi, lasciando proprio a vista la sovrapposizione dei diversi colori e degli intonaci, quindi mantenendo anche le imperfezioni delle murature, i buchi, le fessurazioni, i cavilli, cioè questa per noi è storia, proprio come dei segni capaci di riportare quel sapore di storie vissute e le ho sempre definite fin dall'inizio proprio come delle rughe, rughe del tempo che anziché essere cancellate qui vengono mantenute e anzi vengono valorizzate. Su questo non c'è stata nessuna sintonia con la soprintendenza, tant'è che alla fine sono arrivata a dirgli, ma scusatemi, secondo voi dare una tinteggiata a queste pareti significa fare restauro, mentre lasciare l'intervento così com'è, lasciando le stratificazioni del tempo, voi mi dite che è un intervento di design, io vi dico invece che è un intervento di restauro e così siamo rimaste sostanzialmente, non abbiamo trovato un accordo, ci siamo un po' salvati con il fatto che i soldi erano finiti per cui comunque qualunque intervento non sarebbe stato possibile, ma su questo né io né l'amministrazione comunale avevamo intenzione di cedere con l'idea di fare una tinteggiatura uniforme, andando a perdere poi delle sfumature come queste. Non c'è nessuna vena polemica, anzi io ritengo che la relazione con la soprintendenza sia sempre una relazione positiva per il progetto, perché è un altro punto di vista e se è fatta in collaborazione diventa un valore aggiunto, come a me è capitato di farlo per esempio nell'arancera o in altre situazioni. Ecco, questa è la parete che verrà poi completata con la parte del bar e questo l'obiettivo era appunto mantenere l'atmosfera, l'unicità, il carattere di questi spazi. Abbiamo recuperato delle vecchie porte prendendone nella villa ma lasciandole con lo stesso identico colore. Parlando di sempre di relazione, siamo intervenuti anche sull'atrio e qui Carlo Nigra negli anni trenta aveva trasformato questo atrio in un salotto per cui aveva posato delle piastrelle gialle, delle marmette gialle. Volendo relazionare questo spazio con l'esterno, quindi con la corte e con la piazza ho scelto di trasformare questo ambito in uno spazio pubblico utilizzando quindi una pavimentazione da esterno, in questo caso è il granito bianco di Montorfano e quindi questo è diventato più un esterno che non un interno. Abbiamo fatto anche naturalmente la riqualificazione dei bagni che Nigra aveva inserito in una sala con delle volte a crociera e anche qui siamo intervenuti, sempre siamo, ma anche qui ho deciso di intervenire con un dispositivo, cosa che si usa sempre nei momenti di restauro per non andare a toccare la parete, questa parete in cartongesso che poi è stata finita insieme a questo semplice piano in legno, è stata finita con una superficie di tipo cemento resina sempre della Keracol, come il pavimento non ve l'ho detto ma è cemento flex della Keracol, quindi questa parete nasconde le tubazioni necessarie per arrivare a servire il rubinetto elettronico e anche una striscia led che illumina in maniera radente proprio le rugosità anche qua, le rugosità e le imperfezioni della parete. In controcampo ho lasciato una parete bassa che inquadra le volte a crociera e sarebbe stato bello poter descialbare anche questi inizi delle volte, ma la limitazione di costi è quella che poi alla fine ha dominato, così come questo pavimento, peraltro abbastanza neutro, erano delle piastrelle che c'erano già e le abbiamo riutilizzate e questo comunque non ha tolto diciamo nulla a questo intervento nel bagno che è molto comunque molto carattere in ogni caso. Queste sono delle foto di dettagli fatte da Fabio Gero, Fabio Gero è un fotografo di Torino e architetto e quindi abbiamo sempre una visione molto allineata sui punti di vista, sui punti fotografici. Ecco qui vedete proprio anche le imperfezioni, cioè tutte le sbragature, come si possono definire, sbavature delle cementine che sono state raccordate con la pavimentazione in cemento con una sottilissima lama di profilo di alluminio. Ritorno un attimo sul progetto di Villa Nigra perché per riprendere il progetto di recupero dell'arancera. Come vedete questa è la foto della situazione che ho trovato prima di iniziare il progetto, è un forte degrado sempre di umidità di risalita e però un grosso carattere, c'è una grossa luminosità all'interno di questo spazio e un volume meraviglioso dato da questa volta. Quindi il progetto è molto semplice, non ho fatto altro che valorizzare e far emergere proprio gli elementi principali senza aggiungere interferenze, semplicemente diciamo utilizzando degli elementi quasi invisibili. Quindi un serramento della secco sistemi costosissimo però fondamentale, quindi io lo dico come vedete qua non ci sono interventi di arredo, l'importante era riuscire a valorizzare lo spazio, quindi tutti gli interventi si sono concentrati sui serramenti e sui pavimenti e sulle murature. Quindi serramenti della secco sistemi quindi con un minimo impatto visivo del profilo, pavimento in resina che ricorda il pavimento in cemento della preesistente, riscaldamento a pavimento naturalmente e le pareti dopo il ciclo di risalamento dell'umidità sono state trattate con un tinteggio riempitivo della CAME, un tinteggio riempitivo che ha dato, che ha fatto sì che non dovessimo fare una rasatura di tutti i muri ma ha permesso di lasciare ancora un po' di imperfezioni. Ecco quello che io avevo evidenziato nel render, questo era proprio il passaggio tra l'esistente, il render di progetto e la realizzazione e l'importante era per me mantenere il carattere, il carattere di questo spazio e attraverso questi, diciamo l'uso di questi elementi penso di esserci riuscita, di non aver snaturato questo ambiente meraviglioso. Non ci sono interferenze spaziali perché anche qui non ci sono interruttori, perché il quadro degli interruttori è stato portato dentro a una nicchia che è coperta da una porta in noce, una fiancata, un'altra porta in noce, che si trovavano dentro nelle murature, erano due porte scorrevoli. Quando le ho viste ho detto sono bellissime, vanno portate fuori e infatti ho fatto costruire questa piccola mantovana sotto la quale scorrono queste porte e queste porte fanno da quinta, ecco costituiscono un po' una sorta di quinta scenica, di controcampo a questi altri elementi che sono delle grate in legno che erano esistenti e che sono state restaurate. Ecco qui vedete l'ingresso, questo è l'ingresso alla sala dell'arancera che è una sala polivalente, è una sala che raccoglie più funzioni e anche qui l'illuminazione come nella sala è un'illuminazione che è stata fatta sul cornicione. Ma se vediamo delle foto di cantiere diciamo, ma ecco qui non si vedono molto, comunque gli interventi sono stati abbastanza pesanti, tutto il rifacimento dei marciapiedi, tutto il rifacimento, il consolidamento dei solai sotto, la ricostruzione di alcune parti dei cornicioni, il resanamento dall'umidità e poi la cosa veramente bella è che questi spazi hanno un loro uso immediatamente. Questa villa viene vissuta dalle associazioni culturali, dell'associazione sul territorio e quindi quello che dicevamo prima, l'altra relazione tra lo spazio e il suo uso è fondamentale. Ecco, prima di passare a questo progetto vorrei solo capire se, avendo tolto la mia webcam, vorrei solamente capire se voi mi vedete oppure no. Sì, sì, sì. Ah, allora sono solo io che non mi metto. Grazie, ti ringrazio per la risposta. Intanto abbiamo fatto una pausa perché passiamo da una relazione con un contesto storico a una relazione molto forte con il paesaggio, come potete vedere. Si tratta di una casa per una famiglia di tre persone ed è anche la sede di un'azienda agricola. Anche qui la casa è stata costruita su alcuni principi. Secondo me, diciamo, le dichiarazioni di principio all'inizio del progetto secondo me sono fondamentali. I principi dichiarati e secondo me anche mantenuti erano essenzialità nella forma e nelle dimensioni, la volontà di costruire con fonti rinnovabili, una casa a consumo e inquinamento quasi zero e tempi veloci e costi contenuti. Qui il rapporto, diciamo, la relazione con il contesto è una relazione che vede l'inserimento di questa casa all'interno di un contesto di case sparse, diciamo le classiche villette anni 70-80. Contemporaneamente però all'interno del contesto c'era un grande valore paesaggistico, intanto un andamento collinare del terreno, un frontelago molto bello e un elemento molto importante che è questo faggio piangente. Qui lo vedete nella versione spoglia, nella versione autunnale, mentre qua si vede è una massa enorme che nasconde la casa dalla strada sostanzialmente e quindi la presenza di questo faggio era un elemento decisamente importante. Il progetto nasce proprio dal rapporto che si è voluto costruire con questo faggio e in particolare sono gli stimoli ambientali, quelli che hanno guidato l'inserimento paesaggistico e anche le scelte dei materiali. C'è una lamiera che ha una colorazione, che ha questo marrone testa di moro, che ricorda proprio la colorazione del tronco degli alberi. I tronchi degli alberi cambiano colorazione a seconda della rifrazione della luce, vanno dal grigio al marrone, al nero e così avviene su questa lamiera. Cioè il nero è il mattino e poi quando arriva il sole è una facciata nord per cui è un sole che lambisce proprio lateralmente una lavorazione più calde o più chiare. Per cui mi piace proprio dire che è un inserimento dettato dagli stimoli ambientali. Anche questo andamento verticale della lamiera riprende proprio questi filamenti verticali del faggio piangente ed è una cosa che si vede in realtà molto di più dal vero perché è molto difficile da fotografare perché questo faggio è davvero imponente. Quindi il rapporto con il contesto, naturalmente un rapporto con il lago, lo vedremo dopo, e un rapporto molto importante trattandosi di un nuovo intervento è il rapporto con l'ambiente e quindi con il tema dell'ecosostenibilità. Quindi la casa è, vabbè qui vediamo alcuni elementi, quindi gli elementi dichiarati già da subito che costituiscono la casa, la pietra, l'intonaco, la lamiera e il legno. Il legno è tutto legno di rovere sia nei serramenti sia nelle parti diciamo di, poi vedrete, di scorrevoli o di altri. Ha un impatto molto molto forte, del resto questo lato, questo lato nord era l'unico lato visibile della casa, cioè dalla strada, allora in prima si vede questa bellissima massa del faggio e poi di sfondo si vede la porta d'ingresso e la finestra del bagno, per cui si trattava anche di tematizzare un po' questo ingresso e la semplice piegatura di questo muro, di questo setto murario ha creato un portale, cioè la piegatura di questo muro ha generato eh questo questo portale eh questo portale di ingresso che si inquadra dentro a questo rivestimento eh in lamiera. Ecco il rapporto eh con l'andamento collinare eh è stato scavato qua sotto un piano interrato, sono stati scavati duecento metri cubi di roccia, è stato ricoperto e abbiamo riportato eh l'andamento eh l'andamento proprio della eh originale della della collina e qui la casa si apre, si apre verso il lato sud, si apre verso il lago e eh molto spesso mi è piaciuto definire questa casa come una casa eh una casa di ombre e di luce, no? Perché ha questo fronte che sembra proprio la proiezione di un'ombra e eh dall'altra parte c'è questo fronte molto luminoso. ehm il tema della bioclimatica, il tema della bioclimatica è eh fondamentale, è stato fondamentale nella progettazione di questa casa perché oltre eh ai materiali eh materiali eh materiali eh materiali e lo spessore dei materiali, al cappotto eccetera eccetera in un buon progetto eh per avere una buona resa e quindi avere una casa consumo zero è importante eh un attento studio bioclimatico. Quindi la casa qua è stata impostata su un'asse diciamo è rivolta tutta verso sud per avere il guadagno solare quindi con grandi aperture ed è molto tutta verso nord e questa è una cosa diciamo eh molto base della della bioclimatica. Quello che è stato un po' più complicato è stato eh ma una volta fatto e eh ormai è chiarissimo è stato calcolare eh con il diagramma solare cilindrico calcolare l'ombreggiamento all'interno della casa tanto da avere diciamo nel eh periodo dal 10 di aprile al 10 di agosto eh questa inclinazione dei raggi eh per cui dal 10 aprile al 10 di agosto il sole non entra nella casa ma in tutti gli altri periodi il sole entra e porta guadagno solare. Prova ne è che eh in una giornata di sole eh il guadagno solare è di uno o due gradi durante il giorno. Naturalmente d'estate il sole non entra. Ehm quindi l'approccio bioclimatico e eh e poi naturalmente l'uso dei materiali. Ora devo dire che eh la cosa più eh complessa per questo progetto eh non è stato tanto tanto progetto architettonico quanto eh decidere come costruire la casa eh con quali materiali con eh con le che tipo di strutture e eh non avendo avuto grandissime eh esperienze prima ho sperimentato quindi ho sperimentato eh la muratura portante in Itong. L'Itong è il calcestrutto alveolare cellulare usando dei blocchi da da 60 per eh 36 è un materiale naturale è completamente riciclabile ha un ottimo isolamento termico acustico e una altissima resistenza al fuoco e adesso cioè alla muratura in Itong ho accompagnato un cappotto ai silicati di calcio che sostanzialmente io dico è un Itong alleggerito quindi ha le stesse caratteristiche leggerezze, traspirabilità, incombustibilità e eh comunque resistenza e ehm e su questo eh beh poi gli interni sono eh sono stati fatti con delle pareti interne in eh lastre di gesso eh ferma ma a proposito dei cappotti eh vorrei aprire una parentesi permettetemi una forma di eh pubblicità progresso. Allora da anni io dico basta cappotti in EPS eh e eh quando io spiego a un cliente eh quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una tipologia di cappotto eh capiscono e in tutta la mia eh carriera eh chiamiamola così non ho mai posato un cappotto in EPS neanche di fronte a un cliente che aveva delle problematiche che la metteva diciamo sul piano economico perché vabbè tutti sappiamo che eh è un derivato del petrolio che quindi viene prodotto con dei processi energivori che sono inquinanti e produttori di gas air ma soprattutto secondo me perché è un materiale che sarà difficile da smaltire. Quando abbiamo seguito un corso di formazione con eh un produttore di cappotti ci ha detto che la durata di un cappotto è di venti barra trent'anni. Ora le ditte che stanno ehm che stanno ehm mettendo sul mercato i cappotti stanno già pensando a dei sistemi per andare a restaurare i cappotti ma tra eh vent'anni ci sarà il problema dello smaltimento di questo materiale delle EPS e dove verrà portato eh che cosa si faranno delle discariche ehm delle discariche a parte li porteremo in Africa come stiamo portando tutta la nostra eh tutta la nostra spazzatura. Ecco questo secondo me è ehm è un tema fondamentale che deve partire dal dagli architetti. Gli architetti devono educare le maestranze, gli architetti devono educare i clienti e dire basta cappotti eh in EPS. In più è un materiale infiammabile per cui sappiamo abbiamo visto un sacco di esempi e di eh problematiche su questo ma non solo si comporta molto male nel periodo estivo per cui porta a dover installare dei condizionatori. Quindi io dico basta cappotti in EPS cioè i materiali ci sono eh questo è il silicato di calcio ma eh oltre a silicato di calcio c'è la lana di roccia ci sono eh ci sono anche anche altri materiali eh scusatemi per questa eh diciamo parentesi di pubblicità progresso ma secondo me noi architetti dobbiamo fare di più nella nostra nella nostra professione o almeno cercare di fare quello che eh il minimo che che possiamo fare. Ecco la casa eh si poggia poi su questa c'è il c'è questo io chiamo eh si vedeva meglio in questa foto c'è questo terrazzo eh pontile nel senso che è una struttura in ferro con una eh pavimentazione in legno di IP eh eh un parapetto molto semplice eh fatto senza montanti andando a discutere con il fabbro che eh diceva che era impossibile ma che dà la massima trasparenza dall'interno con l'esterno e eh questi eh scorrevoli in eh in legno che caratterizzano questa eh questa facciata un po' più eh decisamente più calda. Eh gli interni sono degli interni eh volutamente molto molto semplici, molto luminosi ecco eh la relazione comunque dei materiali anche all'interno della casa per cui cemento quindi le uniche due pareti in cemento sono rimaste eh in cemento a vista sono state spazzolate e eh finite con un prodotto della della came eh la porta è stata disegnata naturalmente da me eh su misura eh è fatta da un falegname falegname locale che ha fatto tutti che ha fatto tutti i serramenti per cui non c'è niente di eh particolarmente eh costoso eh la vista non è merito dell'architetto ma è merito del paesaggio e ecco che questa grande vetrata inquadra proprio eh il lago e eh la luce eh l'acqua, l'aria, la natura, il verde entrano dentro nella entrano dentro nella casa. Questi sono l'effetto delle degli Antoni scorrevoli come vedete fatti molto eh artigianalmente quindi con eh una una riquadratura sempre in massello di rovere e poi dei listelli da tre per cinque di di roveri fissati quindi eh qua e ehm mh anche all'interno ho eh ho usato l'intonaco a calce e la tinteggiatura a calce che sono elementi che non abbandonerò mai più nella mia vita eh perché eh la tinteggiatura a calce unita all'intonaco a calce da eh permette ai muri di avere delle vibrazioni eh di luce eh davvero sorprendenti cioè si passa dal dal giallo all'azzurro al grigio eh le ombre vengono diventano morbide eh non c'è quell'effetto piatto della della parete è tutto un po' è tutto un po' velato quindi eh qui ho usato un intonaco a calce con una granulometria eh un po' grossa e poi appunto una tinteggiatura a una tinteggiatura a calce ecco anche qua gli elementi quindi il cemento eh legno legno di rovere come come la scala la cucina eh inizialmente si voleva una cucina molto eh come dire un po' molto forte no molto disegnata e quando poi ci siamo ritrovati con queste pareti così chiare di intonaco eh abbiamo voluto lasciarla molto molto silenziosa proprio la abbiamo scelto il colore più simile al al colore dell'intonaco no questo lasciandolo un piccolo volume eh che si che si rifà alla stessa tonalità dell'intonaco e poi c'è questo eh tema della della scala eh la scala sempre fatta in rover sempre fatta dal falegname eh all'interno della quale è inserita questa eh libreria eh che inquadra poi a sua volta la parete eh in cemento eh io ho finito la mia presentazione perché eh mi sono detta diamoci un'ora ma vorrei tornare a rivedermi se mi date un'indicazione su come fare allora forse ho un'idea eh no non fa nulla eh possiamo possiamo parlare se se volete ok grazie per la presentazione dei progetti anche la presentazione dei progetti molto interessante che ha spaziato su su molti aspetti da da quello puramente architettonico quello più tecnologico anche ho preso anche vari spunti anche proprio sui materiali di cui di cui parlare ho apprezzato anche il fatto l'accenno al cappotto visto che con le ultime con il super bonus con queste iniziative qua diventa un tema più che attuale eh molto importante rifletterci rifletterci sopra eh dunque io appunto lascerei magari anche aperto alle domande che vedo un paio sono già arrivate poi se se volete eh scriverne altri io poi le leggo ehm niente a me insomma ha interessato molto mi è piaciuto molto anche proprio per da una parte la restituzione della complessità della ricchezza del nostro lavoro anche con esempi molto concreti molto pragmatici e non so a me interessa un aspetto che mi interessa a me particolarmente questo rapporto tra la tecnologia come come hai fatto vedere tu che ultimamente sempre molto più preponderante quindi il tema degli impianti dell'efficienza energetica diventa molto importante a volte almeno o anche nella nella mia esperienza tende un po' a entrare in conflitto in contrasto o a sopravanzare sul tema della spazialità dell'architettura diciamo poi chiamiamola così tu come come lo ti ringrazio per la domanda posso intervenire l'altro certo ecco mi sono dimenticata di dirvi che appunto rispetto all'uso delle fonti ehm alternative eh questa casa è eh monta sulla 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 facciata sud sei kilowatt di fotovoltaico la scelta della lamiera come materiale non è nata come una scelta estetica cioè della del tetto che poi diventa eh diventa facciata no questo questo involucro non è nata come una scelta estetica ma è stata anche come una riflessione di integrazione proprio della dell'elemento tecnologico quindi dei del pannello del fotovoltaico che su un tetto in coppi che non avrei mai fatto avrebbe creato un forte contrasto ma il pannello nero eh del fotovoltaico su la lamiera nera ha una forte integrazione per cui ehm e è sempre quello che continuiamo a dire cioè è sempre una questione di relazioni non c'è cioè ogni cosa la si verifica sempre rispetto ad altre non è stata una scelta estetica come dire faccio un tetto in lamiera perché adesso va di moda no perché mi piace il materiale no voglio fare una casa a basso impatto ambientale perché ci credo perché questa casa ha un consumo quando si dice un consumo pari a zero vuol dire che ha ed è stato calcolato nei primi due anni di di bollette ha un consumo pari a 15 kilowattora metro quadro in termini di bollette vuol dire che allora essendoci il sistema pompa di calore fotovoltaico c'è il riscaldamento a pavimento acqua calda sanitaria e piano induzione che va tutto a con l'elettrico per cui l'unica spesa è la bolletta in un anno il primo anno c'è stato mille euro di spesa e il secondo anno 700 euro a seconda perché il primo anno faceva molto freddo quindi una media di 800 euro all'anno di spesa a questo va detratto il contributo che lei nel da per la messa in rete dell'energia che sono di solito 300 400 euro quindi questa casa ha un costo no di 500 euro all'anno massimo quindi davvero una casa a consumo zero no per cui io ritengo che non si possa pensare a un progetto senza occupazione di queste cose quindi senza occuparsi della sostenibilità e senza occupo certo l'integrazione diventa diventa sicuramente più complessa però è fondamentale poi uno stesso progetto che ho riproposto sulla fascia lago sempre con quest'idea del petto integrato che integra la fotovoltaico la soprintendenza la bocciata dicendo nella fascia lago non devono esserci pannelli fotovoltaici ho fatto una lunga battaglia dicendo ma come faccio io a fare una casa consumo zero se non metto il fotovoltaico mi hanno detto la metta su una tettoia dietro questo è stato il risultato però è compito nostro cercare delle delle soluzioni che vadano a integrare quelli che sono le non possiamo più far finta di niente cioè noi in primis dobbiamo occuparci delle ma anche la lamiera un materiale riciclabile lo puoi smaltire cioè tutto deve essere deve essere comunque riciclabile e non deve essere un materiale che che inquina questo mi sembra fondamentale mi ero proprio dimenticata di dire che effettivamente la casa funziona su questo binomio pompa di calore e fotovoltaico e funziona e funziona benissimo insomma allora vediamo magari un paio di domande forse volentieri allora la prima era più su un paio più tecniche per sul sul progetto di restauro foto se vince che il colore rosso delle pareti era presente fino al pavimento rimostra la voiserie perché il rosso meraviglioso non è stato ripristinato su tutte le superfici verticali beh perché c'era ve l'ho fatto vedere prima c'era un grossissimo problema di umidità di risalita cioè tutti gli intonaci fino a una fascia di un metro e mezzo un metro e 70 o un metro e 80 erano terribilmente compromessi e quindi si era perso praticamente tutto quando abbiamo tolto la voiserie perché queste pareti erano ricoperte da una voiserie che ovviamente avevano messo come si usava una volta per andare a non far vedere l'umidità di risalita quindi già allora avevano dovuto tamponare questo problema quando abbiamo tolto queste baserie erano completi legno era completamente marcio e l'intonaco dietro era a sua volta completamente marcio cioè si era perso completamente quindi questa questa linea in realtà corrisponde anche a una linea come dire funzionale nel senso era proprio qui sotto sì forse c'era qualche qualche parte di rosso come qua forse magari qualche altro centimetro però poi avremmo perso la possibilità di di dare questo taglio secondo me è importante tra ciò che è l'intervento nuovo e quello invece che è questo questo quadro che da lì si apre e che è quello della del novecento del migra certo sono scelte difficili sono scelte difficili laddove bisogna sempre come dire sacrificare qualcosa no non si può salvare tutto bisogna salvare ciò che è ciò che è essenziale per quello che diceva che diceva zunto per il ricordo per riportarci alla alla memoria per riportare all'unicità di questi spazi sono sono sempre delle scelte su che cosa è giusto mantenere che cosa va sacrificato tra virgolette certo assolutamente poi anche nei tuoi racconti del rapporto con la sempre in tendenza è anche abbastanza curioso che poi qualcosa che sperimentiamo tutto tutti anche il fatto di questa cosa che diceva di tinteggiare tutto invece di fare come poi avete fatto di mostrare i segni cosa che su altri invece su altre soprintendenze invece è questo ti dicono al contrario di far vedere segni di far vedere l'intervento nuovo da quello quello antico ed è un dibattito che va avanti quindi sono d'accordo quando dici quando poi se si nasce la collaborazione diventa un arricchimento per tutti quella è una scelta purtroppo cioè è un rapporto molto personale con il funzionario no per cui a seconda del funzionario che trovi come ha detto io ho avuto il piacere di lavorare con dei funzionari bravissime dai quali io ho imparato moltissimo ma io qui ho sentito proprio un senso di responsabilità cioè con con quale con quale non so come dire io ho una responsabilità nei confronti di queste di queste pareti che peraltro sono bellissime io mi sono innamorata di ogni di ogni colore di ogni di ogni sfumatura e l'idea di andarle a coprire perché un funzionario me lo chiedeva quando so benissimo che molti altri la vedono in maniera diversa è assolutamente sia io che il comune abbiamo abbiamo deciso di portare avanti questa linea a costo anche di non farci firmare il la relazione la relazione finale ma perché poi ero sicura che alla fine il risultato avrebbe convinto anche loro o funzionare che poi si sarebbero succeduti per cui secondo me bisogna sempre tenere un senso di responsabilità nei confronti appunto del quando si fa un intervento nel paesaggio tante volte mi spavento quando vedo il cantiere vedo grandi scavi di con mamma mia nel senso quindi bisogna sempre cercare di di capire che noi stiamo intervenendo su un paesaggio su un edificio storico e quindi dobbiamo farlo con la massima con la massima attenzione facendo anche dei passi indietro io a volte dico qui l'intervento dell'architetto quasi non si vede ma lo dico con orgoglio perché perché il sapore dello spazio c'è chi l'ha fatto non ha importanza non non ho voluto con quei pochi soldi introdurre dei segni architettonici del nuovo intervento no il mio obiettivo era valorizzare questi spazi sì infatti sono d'accordo apprezzato mi piaceva anche molto lo strumento che hai utilizzato per delle foto cioè lavorando sul disegno sulle foto per rappresentare in cantiere le tavole di cantiere cosa doveva essere tenuto e cosa invece veniva modificato lo trovo molto interessante come come strumento esiste nel mondo nel mondo del restauro è un layout un po me lo sono fatta io nel senso ma molto vedi fatto proprio a matita nel senso però vi racconto questo aneddoto vedete questa vedete questa questa parete questo arco no c'erano inserite queste mensole tutte marce per cui con l'impresa abbiamo detto togliamo le mensole togliamo queste queste mensole e lasciamo però tagliamo a filo i travetti i travetti c'erano dentro dei travetti che tenevano le mensole ho lasciato il layout questo disegno per cui dopo dopo due giorni ritorno in cantiere e e qui lo vedete per togliere queste mensoline diciamo di 10 questi travetti di 10 cm 8 cm di diametro avevano fatto gli sbreghi di 20 centimetri e lo vedete qua questo 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 naturalmente mi è venuto da piangere non però pianto ci mancherebbe però mi sono detta ma caspita cioè neanche venendo in cantiere una volta ogni due giorni neanche dando il disegno siamo riusciti a a capire che questa c'è che lasciare intatta questa c'è tutto questo questi questi buchi questo questo intonaco staggiatura calce queste sovrapposizioni è un valore per me era un valore per loro era quel quel pezzettino di legno inserito nella nella muratura era un disvalore cioè era una cosa da far sparire per cui poi in realtà qui abbiamo dovuto fare un lavoro con con l'imbianchino di ricostruzione diciamo con con malte con spessori diversi e alla fine ci sta nel senso tutta questa parete è bella secondo me è bellissima nel senso che va inquadrare questo arco un po come se fosse un quadro se fosse stato riquadrato fino in fondo sarebbe stato quasi banale no ma poi c'è questo elemento che in realtà un elemento tecnico che serviva per far passare la pompa per il getto della della dei sottofondi che poi è stato richiuso in sotto livello e quindi è diventato un altro elemento un altro pastello ma queste cose le scopri in cantiere cioè andando in cantiere e vivendo il quattro il cantiere quotidianamente dicendo aspetta ferma quella parete di non toccarla per cui bello del restauro è sicuramente sicuramente questo andare a vedere quante cementine si riuscivano a recuperare per poi fare il disegno su misura e dire ecco ne abbiamo recuperati 50 che allora facciamo solo questo pezzo per dire no il cantiere è una bella una bella sfida sempre ma quello che poi dopo se sai tenere da dai grossi risultati ecco c'è una domanda tecnica per la verniciatura calce quale prodotto utilizzato bravo per la tinteggiatura calce mi dispiace non mi viene in mente non non me lo ricordo però diciamo che sul mercato diciamo sono quasi tutte di ottimo di ottimo livello ti faccio un esempio guarda a un certo punto avevamo uno sponsor perché qui siamo alla fine con tutti questi imprevisti di fondazioni veramente abbiamo chiesto anche delle sponsorizzazioni e ci hanno proposto la cpr quindi una marca assolutamente diciamo che non fa non si occupa di tinteggiature a calce di fornirci materiale a calce io ho chiesto la scheda tecnica e l'ho fatta vedere al restauratore ho detto scusami cosa ne pensi di questa tinteggiatura calce lui mi ha detto guarda ormai la qualità delle tinteggiature a calce sono molto alte in ogni in ogni diciamo puoi andare dalle marche più consolidate came piuttosto che calchera la calce del brenta ma puoi andare anche con altre con altre marche perché ormai il livello poi basta guardare diciamo la scheda tecnica e uno capisce anche quanto componente diciamo minerale naturale c'è rispetto magari a ad altre cose che mettono dentro mi dispiace ma non mi viene la il nome c'è un altro domanda c'è un complimento intervento interessante interessante ascoltare non solo il percorso compositivo funzionale ma anche la scelta curata dei materiali condiviso questa esperienza i gest architettonici sono estremamente calmi e raffinati così come come il racconto sì in effetti poi può essere anche interessante che prendo spunto da questa da questa domanda questo intervento anche po quanto alla fine ci si riconosce quando ci senti quanto si ritrova un fil rouge una linea poi nei vari interventi pur differenti che sono da restauro appunto la nuova costruzione alla alla piazza al paesaggio che hai fatto quanto in realtà se lo trovi una tua linea che contraddistingue il tuo lavoro mi vedete condivido con voi questo che è il mio il mio sito internet lo vedete ecco gli interventi sono sono degli interventi sono interventi che diciamo vanno negli ultimi negli ultimi negli ultimi anni devo dire che io riconosco proprio la come forza l'uso dei materiali per me i materiali sono fonte di davvero di di quel sentire no che di cui parla proprio zunto del della loro sì che sono capaci di riallacciarti a un ricordo cioè il legno ti riporta inevitabilmente a non so al sottotetto della della casa del nonno non so come dire a un profumo al bosco i materiali naturali ma anche minerali noti sono per me sono fondamentali nel progetto la relazione tra i materiali quindi i colori anche qua questo progetto ve lo faccio vedere molto molto semplice cioè la pavimentazione di un di un centro storico è stata giocata semplicemente sulle diverse texture della della beola la beola a lastre la beola ossolana quindi siamo nell'ossola una beola assolutamente locale riprendendo questa tipologia che in realtà è del trentino perché si chiama gli smolleri che da noi nell'ossola non non è usata si usava una volta per fare delle rampe ora per andare a spiegare a all'impresa che tipologia volevo io che poi sono dei blocchetti tagliati diciamo sono dei blocchetti tagliati di costa è stato molto difficile nel senso che ho dovuto girare tanti mar misti ma io volevo quella cosa lì cioè non volevo il l'acciottolato arrotondato tipico del lago qui siamo in montagna volevo una pavimentazione rustica e contemporaneamente una pavimentazione adatta all'uso perché le persone qui ci camminano ma qui non ci camminano cioè ci camminano con meno diciamo meno agevolmente no per cui questa pavimentazione è fatta semplicemente da due texture con dei materiali ed è l'uso del materiale cioè il materiale usato in un modo anche quale lastre comunque usate con tagli diversi e già soli tagli diversi generano delle delle colorazioni diverse e questo è un progetto che a me a parte che va beh anche qua essendo un lavoro pubblico naturalmente mi sono smazzata tutti i sottoservizi le fornature gli allacciamenti non vi dico le pendenze ovviamente poi forse per proprio per la fatica che fai in tutto questo processo quando arrivi e chiudi un progetto in maniera così semplice e pulita la soddisfazione davvero davvero enorme però certo è sono i materiali e l'uso dei materiali e questo nasce proprio da invece dal fatto anche di aver pensato a come la gente camminava su questi spazi e vi faccio vedere un altro un altro un altro progetto vabbè questa è la piazza piazza giovanni ventitresimo che ho fatto con paolo citterio e annacchiara morandi quando avevamo lo studio da architetti e ci siamo il progetto era il progetto della piazza ma noi ci siamo in realtà concentrati di più sul progetto del sagrato perché non si poteva progettare la piazza e lasciare silente questo questo sagrato quindi il sagrato è stato impreziosito con questo manto di anche qua sono due tipologie di beola di beola ghiandonata con questo disegno del gradino in massello con questi inserti invece che sono delle un po questa è una poetica di paolo perché è stato lui a lanciare questa poetica c'è del comunque quasi del riso no quando butti il riso quando ci sono gli sposi lo butti sul sagrato noi questi lasciano un po come dei segni ecco che queste lastre sono un po questo ricordo della ma anche qui diciamo è l'accostamento dei materiali abbiamo introdotto un progetto artistico che è stato fatto da franco durante un artista di milano la piazza intitolata piazza giovanni ventitresimo e qui e qui abbiamo inserito un suo lavoro una frase di piazza giovanni di papa giovanni ventitresimo caro figlio le sento le vostre voci lasciate ogni tristezza andate a casa e date una carezza il vostro ai vostri bambini no quindi anche qui una una un elemento poetico ma anche artistico in uno uno spazio pubblico che è poi caratterizzato da una grande aiuola questa era anche questa è una panca fioriera una panca fioriera che quindi contiene il verde ma poi diventa anche elemento di seduta quindi anche qua di nuovo la relazione con l'uso non vogliamo fare un grande e bello oggetto vogliamo fare un oggetto che viene usato anche quindi direi proprio che il titolo e io vi ringrazio per avermi dato questa occasione perché comunicare a volte dalla possibilità anche di può vedere dal da darsi un po una come dire vedere un po che cosa si sta facendo no e direi che gli elementi gli elementi sono sono questi vi rubo ancora un secondo per farvi vedere sul tema delle boiserie questo progetto di allestimento al museo tornielli anche qui è stato fatto con dei piccoli interventi delle micro architetture fatti con materiali diversi questo è un progetto fatto in collaborazione con un artista feiffer che a un certo punto lui aveva scoperto che il legno di robinia che sono queste queste che legno più infestante che c'è sostanzialmente messo al buio al suo interno una materia che è luminescente quindi fosforescente quindi non si poteva qua riprodurre il buio nel senso cielo si sarebbe potuto vedere solo al buio questo processo ma abbiamo deciso di evidenziarlo di raccontarlo come un carattere della materia e quindi di tinteggiarlo con questo colore fosforescente lasciandolo poi anche abbastanza brutale con questi pannelli che che scorrono e che si aprono dentro una stanza che è stata chiamata la stanza del cuore verde una stanza per fare allestita per fare degli allestimenti quindi queste invece era la libreria e il bookshop fatto con delle semplici lamiere di ferro fatte da un fabbro molto locale e un intervento sulla scala fatto con un artista la presidente dell'associazione culturale asilo bianco che sono fatti è un intervento fatto con gli scarti di di plastica e questo vedete è l'effetto proprio della luce su queste su queste pareti luminescenti beh ultimo vado un altro vai tranquillo questo è un progetto al quale tengo moltissimo perché l'ho fatto con lorenzo consale bravissimo architetto dello studio consale se rossi con lui ho avuto il piacere di lavorare tanto sia professionalmente sia in università facendo da cultura della materia nel suo nel suo corso in questi anni l'avevo coinvolto a da meno in questo dove si è stato coinvolto anche tu massimiliano tanti anni fa all'interno del della rassegna paesaggi mirati e quell'anno io lorenzo abbiamo fatto un allestimento all'interno del museo tornielli per la per alberto alessi in particolare per la sua attività parallela a quella della fabbrica alessi una azienda vitivinica vitivinicola che lui ha fondato insieme alla moglie e anche qua diciamo l'allestimento ha interpretato proprio i principi naturali che hanno accompagnato il progetto di questa tenuta no perché questo è un disegno fatto da martì guisce questo designer che ha lavorato moltissimo per alessi che ha proprio interpretato il fatto che questa tenuta è un valore principalmente un valore paesaggistico perché è stato il recupero di un antico vigneto quindi non è il valore non è solo intervento come dire commerciale ma è un intervento innanzitutto intervento di paesaggio e noi l'abbiamo voluto raccontare con i materiali quindi co andando a prendere proprio nel vigneto una piantina che l'abbiamo inserita in un cubotto di vetro andando a prendere il tipo di terreno andando a inserire il corno nel terreno che racconta del processo col quale viene prodotto questo vino che è quello della biodinamica che si rifà inserendo facendo diversi come dire diversi diversi riti e tra questi anche riti non è la parola esatta ma insomma comunque inserendo per esempio il corno di buca per fertilizzare il terreno in maniera naturale e andando a prendere anche proprio la sempre una piantina quindi abbiamo voluto raccontare questa casa vigneto a partire proprio dalla dalla natura dei 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 materiali e raccontando anche invece del prodotto che poi sono queste bellissime bottiglie che possono essere usati anche come decanter come porta come porta candele degli oggetti molto raffinati con un packaging raffinato e ecco qua vedete vedete alberto alessi che è venuto all'inaugurazione qui appunto ha condiviso con noi questo progetto che mi è piaciuto molto e e nell'allestimento abbiamo inserito anche questi ovari che sono delle sedute che giulio iacchetti aveva fatto con questo questo tessuto molto molto particolare l'abbiamo inquadrato su delle assi da cantiere l'allestimento è fatto tutto lo avete visto con con assi da cantiere sostanzialmente che abbiamo preso da un'impresa li abbiamo tagliati li abbiamo montati su dei cavetti su questo devo dire che è la bravura di lorenzo anche nella dimensione non solo diciamo concettuale progettuale ma una grande bravura anche dal punto di vista manuale artigianale da lui come da paolo citterio io ho imparato moltissimo cioè quello che noi possiamo dire che noi siamo le nostre relazioni noi siamo l'interazione che abbiamo avuto con le altre persone cioè non credo nell'individuo che si forma come individuo noi ci formiamo nelle relazioni con gli altri noi siamo le nostre relazioni condivido condivido questa ultima frase e su questa forse possiamo salutarci se non ci sono altre domande però io io posso andare avanti all'infinito perché poter raccontare condividere i progetti è una è una cosa bellissima io a volte magari chiamo dei colleghi gli dico ah stai facendo questa cosa invitami in cantiere vuoi venire a vedere i miei cantieri cioè la condivisione secondo me è importantissima nella nostra professione non isoliamoci sono d'accordo poi anche in questo aspetto che tu hai fatto vedere bene a questo aspetto sperimentale che appunto noi ci troviamo in alcuni casi a trovare a sperimentare anche nuove tecnologie e non essendo sicuri o certi dell'effetto finale per il tipo di lavoro quindi confrontarsi con magari chi l'ha già affrontato ha affrontato qualcosa di simile sicuramente è utile e interessante prende un aspetto forse appunto riporta un aspetto più di invece l'architetto singolo architetto come collettività come professione collettiva finirei magari forse con questa domanda che mi sembra molto interessante che valeva la pena ognuno falsa da se stesso prima un partecipante diceva che forse la tinteggiatura calce della came forse diceva so se ti suona allora nell'arancera ho usato una tinteggia tutti del giorno riempitivo della came esattamente nella dell'orangerie mentre sulle sulle pareti nell'altro intervento di villa nigra in realtà tinteggiatura calce non ne abbiamo fatte perché abbiamo lasciato l'intonaco a vista cioè l'intonaco della calchera la finitura di intonaco della calchera anche l'intonaco della calchera ha diverse granulometrie noi ne abbiamo scelta una abbastanza grossa e tinteggiature non ne abbiamo fatte perché il resto l'abbiamo lasciato intatto con queste famose rughe del tempo questi segni del tempo mentre nella casa quel progetto che vi ho fatto vedere lì abbiamo fatto la tinteggiatura calce però ecco lì non mi ricordo non mi ricordo con che materiale l'ultima domanda a cui accennavo è quale tipo di progetto ti piacerebbe affrontare in questo momento che bella domanda ma non lo so non lo so mi piace non lo so non ti so rispondere il problema sono sempre un po i committenti allora devo dire che allora lavorare anche con un budget molto ristretto cioè questo qua di villa nigra alla fine a portare stato anche come dire beh da un certo punto di vista un disastro nel senso che ovviamente non hai soldi per fare niente vuoi mettere delle luci a parte che siamo riusciti a tenere sono riuscita a tenere tutto anche con delle luci adesso anche queste delle luci dico ma beh insomma comunque abbiamo messo rubinetteria cristina abbiamo messo i sanitari comunque di marca però avere poco budget diciamo ti spinge a dire ma allora questo cioè questa cosa la facciamo non la facciamo no non ci sono i soldi questa cosa la facciamo non la facciamo non so per dire ecco ci sono dei dettagli questo interno del del serramento lo facciamo non lo facciamo io in primis dico non lo facciamo però se uno avesse avuto molti più soldi avrebbe detto beh però effettivamente forse l'interno di questo avremmo dovuto farlo facciamolo la ripresa di alcune parti d'intorno ecco anche il fatto di avere pochi soldi alla fine ha portato a fare delle scelte anche abbastanza brutali e secondo me diciamo ci stanno nel senso assolutamente magari con un budget e un cliente privato avremmo dovuto magari ritinteggiare questo intorno a che non lasciarlo a vista non lo so ci sono vantaggi e svantaggi anche a seconda di avere una committenza di livello o una committenza un po più diciamo basic come quella che caratterizza i lavori pubblici e finora io devo dire che ho sempre fatto moltissimi lavori pubblici perché questo mi ha portato ad avere anche una un certo rigore no rigore nel rispetto dei tempi rispetto dei costi nell'interfacciarsi comunque questo secondo me è una cosa bella con un sindaco che in realtà non sta facendo un progetto di casa sua ma sta rappresentando una collettività e quindi tu come progettista hai una responsabilità e anche dei margini secondo me è superiori di scelta rispetto a quello che potresti avere con un committente privato che invece sta facendo casa sua e se vuole il bagno rosa giustamente si fa il bagno rosa esatto bene perfetto niente allora visto che sono altre domande chiudere anche qui grazie ancora e complimenti per il lavoro grazie a voi massimiliano mi ha fatto veramente piacere io spero adesso è cambiata diciamo è stata rinnovata anche da noi la commissione dell'ordine sia di formazione che commissione cultura e mi piacerebbe molto mi faccio parte creare una sinergia maggiore anche tra questi anche queste nostre province magari un po minori rispetto alla provincia di milano piuttosto che quindi magari interfacciarsi anche condividere insieme delle degli eventi e immagino che comunque ci sia anche un certo lavoro da parte tua da parte vostra per organizzare selezionare quindi un lavoro impegnativo e a volte si possono anche mettere insieme le le forze senz'altro dai volentieri va bene grazie 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 ciao grazie a tutti grazie a tutti